signore a far data dal mese prossimo voglio accettare le mie dimissioni e provvedere se crede a sostituirmi lascio molto lavoro non compiuto sia per ignavia sia per difficoltà obiettive dovevo dire qualcosa a qualcuno ma non so più che cosa e a chi l'ho scordato dovevo anche dare qualcosa una parola saggia un dono un bacio ho rimandato da un giorno all'altro mi scusi provvederò nel poco tempo che resta ho trascurato temo clienti di riguardo dovevo visitare città lontane isole terre deserte ne dovrà depennare dal programma o affidarle alle cure del successore dovevo piantare alberi e non l'ho fatto costruirmi una casa forse non bella ma conforme a un disegno principalmente avevo in animo un libro meraviglioso caro signore che avrebbe rivelato molti segreti alleviato dolori e paure sciolto dubbi donato a molta gente il beneficio del pianto e del riso ne troverà la traccia nel mio cassetto in fondo tra le pratiche in evase non ho avuto tempo per svolgerla è peccato sarebbe stata un'opera fondamentale l'inizio è come accade spesso nelle liriche di primo levi un vocativo un vocativo che si rivolge a chi al capo dell'ufficio del laboratorio dell'azienda chissà è una lettera di dimissioni dal lavoro o sono le dimissioni dalla propria vita è un resoconto finale in prima persona incentrato esclusivamente sulle proprie mancanze la successione dei dovevo inizia al verso 6 dovevo dire e prosegue al verso 8 dovevo dare e ancora al verso 13 dovevo visitare e al verso 17 18 dovevo piantare e costruirmi una casa il dovere mancato si rafforza nelle sue varianti ho rimandato al verso 10 ho trascurato al verso 12 e l'esplicito e non l'ho fatto del verso 17 il verso 20 segnala il passaggio ad un altro tema quello dell'opera letteraria le proprietà benefiche di un libro meraviglioso sono segnalate da tre indicasillabi in tre versi successivi 23 24 25 tre indecasillabi in un testo caratterizzato dalla presenza di versi molto lunghi i versi lunghi di primo levi sono molto interessanti questi versi lunghi si mescolano con i versi più classici della tradizione gli indecasillabi ce ne sono nove in questo componimento su 29 versi ci sono anche un paio di settenari gli altri versi i versi lunghi sono curiosamente ottenuti accostando due in due mistichi due versi differenti in genere un settenario un quinario o viceversa un quinario un settenario ed è questo che da a questi versi sciolti cioè privi di rima è questo che da loro il ritmo di fondo se il primo verso nel primo mistichio è un settenario gli accenti metrici cadono in determinate posizioni lo stesso se è un quinario quindi il ritmo è ottenuto in fondamentalmente ancora attraverso il metro un esempio su tutti questi versi li abbiamo sentiti adesso guardiamoli guardiamo i primi tre versi del componimento di primo levi signore a far data dal mese prossimo voglia accettare le mie dimissioni e provvedere se crede a sostituirmi questi tre versi sono indicativi sono rappresentativi di tutta la composizione il primo verso il primo verso è un settenario a cui è accostato un quinario signore a far data questo è il settenario dal mese prossimo prossima parola sdrucciola è un quinario voglio accettare le mie dimissioni è un endecasillamo direi un endecasillamo a minore e provvedere se crede a sostituirmi e provvedere quinario se crede a sostituirmi settenario accostati uno dopo l'altro l'insieme fa un verso lungo un verso al di fuori della tradizione italiana ma i due versi sono riconoscibilissimi e anche la pratica di accostamento di due versi differenti che si associano a una pratica non particolarmente inedita io per me la mia memoria va direttamente a carducci nella traduzione della poesia barbara nella nella traduzione della poesia classica che diventa barbara per noi canto carducci usa spessissimo l'accostamento di due versi differenti ottenendo in italiano un verso molto lungo e da carducci in avanti verso di noi verso la contemporaneità ci sono altri esperimenti di questo genere questi versi sono propri della poesia novecentesca della fine del secolo il testo data al 1981 è stato un secolo il ventesimo in cui la poesia italiana che ha un passato lunghissimo e glorioso cerca un nuovo linguaggio gli esperimenti sono tanti quelli di primo levi sono particolarmente interessanti anche lui anche lui è attratto dal verso lungo dal respiro ampio che tende ad allungarsi sempre più come un elastico ma con un limite come ogni elastico che si saperebbe in certe condizioni e come un verso italiano che per quanto esteso non può esserlo senza regola pena la perdita di riconoscibilità di identità grazie a tutti grazie grazie grazie